A voi, alla G.T.G.E.S.P.R.S., la G.C.D.E.A.N. 2008 e 2009, da sanformazione politica, da manas rembursamenti danze per maltenze, lo frontone istituis la corale femminil, sigla! Abbiamo attivato un servizio a domicilio che in realtà facevamo già per quelle persone vicine, quelle persone anziane, quindi abbiamo pensato di ampliare questo servizio e di renderlo a tutta la cittadinanza di Alghero. Buongiorno e bentornati alla G.T.G.E.S.P.R.S. A voi di l'11 e 5 novembre, Sant'Andrea, 2018. Sono mezzomancho la Sdewideu. Salute i miei amici algarisius e i miei amici cataransi. Cade an 2018 e 2019, la G. Sasscomenzam Antonio Marras, lo 27 novembre al triatro, ma il mio cuore lo sto soffrendo, cosa posso fare per te? L'Uviti de Naral agli stimenti dell'Abra de Naral, Amprassa del Pultal. L'U30 eccessional primera mondiale della Fura de Sbaus, famosa compagnia triatrale catarana, sono anche gli scanubelti, le Olimpiadi di Balsarona, nella cerimonia di inaugurazione. Entriati all'Alghie per presentare un nuovo show, sigara dedicata ai canti della Sibiglia. La niente del 31, teniamo Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso, ma l'Us Deglius DJ time, la riunione, i ammigianiti forze artificiali. L'U5 di Gianni, conselta, ma Paolo Zicconi. Paolo Zicconi che è l'unom del titolo, l'Umaggia, asseso in drigo, al triatro civico. Leggo anche i canti della tradizione amare la chorale Novalghè, la Novalghè è una chorale nostra algarisa. Raimondo Dore e poi anche Ramon, che attuerà la musica dai balconi. Campagna elettorale, un dia sì, un dia no, ne parliamo sempre. Ma non sono le proposte concreti. Avemmo atteso tanti e tanti algarisos. E tutta la mia mateixa idea. Notano il messo, lo paraullo con il cavallo e l'anello al nas. Un esempio, il parà del congresso, una balzica che oramai non ha fatto una canzone. Se ne sta fent una bandera senza curoles. Ma se non ha mai funzionato, a quel raglio di cose, per la chiesa è stata costruita, se non ha utilizzato soltanto, esclusivamente, l'espai esterno per i concelsi, doniamo un copo a Ramas e un copo al Maltel. Lo 31 di generale, nel 2010, la regione aveva finanziato per la manutenzione, valorizzazione e gestione, lo comune di raggi, a massimo di 500 mili euro. Resultati, con sales a lo belt. Ora, un accordo con la regione, filmato il 6 di marzo del 2018, per darlo in gestione, al superarolle economico. Esancol, lo bando e a scaolo, 3 di generale del 2019. Per chi è in queste condizioni? Responsabilità di chi? Giurica o vosotros. E' per ver, quando lo so e sbasta, l'ombra di un nano s'aiunga... Disponibili i moduli per la ricognizione delle stanze causate del tensi mal, per i bensi immobili registrati, attività economiche produttive, sono aziende le attività agricole e zootecniche. i moduli si ritirano e si consegnano all'ufficio il protocollo del Comune del Alghè, ex Casa del Caffè. Caradilla era 9, fin a luna del Maitì, e era 13 e 14 e 14 di Rattalda. Dissata era 9, fin a luna del Maitì. E entro il 15 di novembre. Ora avevo la regia e le utenie mandirete. E anche quest'anno è arrivato il tempo delle arance. Farinelli Fresco Market L'associazione musicale Lufruntunia è istituita una corale femminile. Si può scrivere le persone dei dati dei 14 anni a Damont. Le sue audizioni si ottengheranno l'odimazzo e l'odigio di Rattalda nel sarò parrocchial di San Giovanni Bosco. Si può essere il cambiamento femminile, si può avere la passione per il canto e la voglia di dedicare l'utenza alla studi e la ricerca della musica di inspirazione popolare algerese. Per qualsiasi raggiungere le informazioni e le domande possiamo contattare a Paldunau nella pagina Facebook di Algero Channel. A vous euro! A continuosa video... Grazie a tutti